Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Senza un'ultima parola, senza neanche dirci addio, con quel tuo sorriso eterno, che non me l'ascorto mai. C'è Robby Facchinetti? Robby Facchinetti è un ragazzo, anzi ex bambino, che ha scoperto la musica che aveva 5-6 anni, grazie alla mamma che ascoltava sempre musica e grazie anche al nonno materno che era musicista. Io non posso che essere, non ho avuto la fortuna di riconoscerlo, perché se n'è andato proprio il giorno del battesimo, il nonno materno. Certo che ho una riconoscenza nei suoi confronti, nei confronti di mia madre, per cui ho scoperto la musica da quel momento, diciamo che non mi ha più abbandonato, non ho più abbandonato la musica. Poi a 6-7 anni ho cominciato a studiare prima la fisarmonica, che era uno strumento all'epoca molto accessibile. Poi sono passato al pianoforte e ho avuto veramente la fortuna. Poi di solito uno dice, vabbè, insomma ho scoperto la musica, ma non è presunzione, ma io credo che la musica abbia in qualche modo scoperto me, perché io non potevo immaginare a 5-6 anni di innamorarmi in questo modo. Poi io l'avevo codificato in un modo particolare questa cosa, perché insomma la musica mi dà questo, mi fa sentire, poi c'erano dei brani che io amavo in modo particolare, che mi facevano sentire, come dire, bene anche da bambino. Per cui dicevo, vabbè, insomma, questi brani mi vogliono bene, perché mi fanno sentire bene, mi fanno sentire contento, non so come dire. E allora, niente, chi è Robi Facchinetti? E' questo che ha sempre in qualche modo vissuto di musica. Lei ha sempre rincorso me, io ho sempre rincorso la musica, perché per me è sempre stata e ha sempre rappresentato la mia vita. Io ho dedicato e continuo a dedicare la mia vita alla musica. Fino a quando avrò la fortuna di mantenere la fantasia, perché l'artista ha questo, no? Deve proteggere la propria fantasia, perché è la cosa più preziosa che abbiamo. Come nasce questo ultimo lavoro? Perché è un lavoro abbastanza complesso. E poi la sequenza dei brani, ma soprattutto il primo brano, che un po' racchiude un pochettino poi dalla sequenza un po' logica forse al disco. Beh, sì, tu parli degli inediti da Rinascerai, Rinascerai? Sì. Insomma, Rinascerai è nato qui, nel mio studio. Io mi trovo a casa mia e nel momento forse più doloroso per la mia città, dopo che abbiamo visto, e ho visto anch'io come tutti, i famosi carri dell'esercito italiano che portavano via le bare della nostra gente. Non si riusciva a capire che cosa stesse accadendo, perché era impossibile capire e comprendere che cosa significava. Io ho anche pensato che fosse un colpo di Stato o qualcosa del genere. Fu dolorosissimo, soprattutto per noi, dopo un mese che eravamo tutti in questa città, Bergamo, barricati in casa e per cui ero qui e ho chiesto aiuto alla musica, perché la musica mi ha sempre in qualche modo salvato, mi ha sempre aiutato. E anche in quel momento molto, molto doloroso, mi misi al pianoforte, io ascoltavo musica per sentire meno dolore, per staccarmi un attimo da questa orribile e terribile realtà. E inconsapevolmente al pianoforte è nato questo brano, Rinascerai, che è il primo dei cinque inediti di questo mio progetto live, inseguendo la mia musica. E chiamai subito Stefano, che in pochissime ore scrisse questo testo straordinario. È stato inciso, rimanendo ognuno a casa nostra, barricati in casa. Non so neanche come abbiamo fatto, fu veramente un vero miracolo. E dopodiché è stato fatto questo video, grazie ai miei amici medici del nostro ospedale Giovanni XXIII. Una volta realizzato tutto, mandammo in rete questo rinascerò, nostro rinascerai, nascerai. In pochissime ore arrivò veramente in tutto il mondo. Adesso ho superato ampiamente 20 milioni di visualizzazioni che da ogni parte del mondo sono state fatte circa versioni, lingue diverse di questo, veramente in tutto il mondo. Inglese, francese, tedesco, giapponese, cinese, coreano, egiziano, il paese dell'est, rumeno, bulgaro. Insomma, veramente in tantissime, tantissime lingue. Una volta fatto questo brano, con questo successo, questo riscontro straordinario, mi è avuto moglie di scrivere, perché mi sentivo particolarmente ispirato. Sono nati altri quattro inediti, tre dei quali il testo sempre di Stefano Dorazio e uno di Francesca Poli, di questa utrice che scrive anche per Mina. Adesso siamo arrivati al quinto, è uscito da pochi giorni, esattamente una settimana fa, da pochi giorni, anzi venerdì scorso, questo quinto singolo che si intitola L'Ultima Parola. E anche questo brano ha una storia, devo dire, molto molto particolare, perché quando io chiamai Stefano, circa un anno fa, perché più o meno il periodo era questo, forse 20 giorni dopo, era luglio, gli dice, guarda questa musica, mi piacerebbe che si parlasse di quest'ultima parola che non sempre si riesce a dare nei rapporti di amore, anche degli amori importanti, degli amori anche molto forti. Purtroppo parecchie volte finiscono così, senza l'ultima parola. E avevo pensato a un brano d'amore, ma dopo un paio di giorni lui mi chiamò, e mi disse, guarda, non ho fatto un testo d'amore. Questo testo, questo brano, questo mio testo lo voglio dedicare a Valiero Negrini, che se ne andò nel 2013 senza realmente lasciare l'ultima parola. Ma la cosa, l'ironia, ahimè, del destino, della vita, è che inconsapevolmente Stefano non sapeva che scrivendo questo testo che generosamente ha voluto dedicare a Valiero Negrini, inconsapevolmente, non sapeva che quel testo lo stava dedicando anche lui stesso. Questo devo dire che ogni volta che lo ascolto mi fa veramente un effetto stranissimo, credimi. Una valigia piena di desideri? Beh, sì, diciamo che l'artista, cioè ogni cosa che fa è comunque, no, fa parte della sfera dei desideri, sentire, no, questa spinta di fare un qualcosa di speciale, di bello, di diverso, di particolare, perché questo è il ruolo dell'artista. Ancora meglio, senza peccare di presunzione, di cercare di creare un qualcosa che fino a quel momento nessuno mai, quanto riguarda la musica, eh, nessuno mai magari ha pensato di fare o di creare, questo è l'obiettivo di ogni artista, perché l'opera più unica è e dà realmente il valore vero dell'opera, no? Nell'unicità. E si completa anche con un libro che inizia, il libro inizia, possiamo dire, che inizia con la fine di un gruppo, che è Poo. Niente, beh, della nostra storia. Dopo l'ultimo concerto che facciamo il 30 dicembre del 2016 a Bologna, è scesi dal palco e in camerino, in mezzo a veramente centinaia di messaggi che arrivarono un po' da ogni parte, attraverso il mio telefono, c'era questo messaggio molto molto speciale di questa Katie che aveva assistito al nostro concerto e mi salutava. Inizia, beh, insomma, la mia vita, una parte della mia vita finisce qui. Voi avete fatto l'ultimo concerto e la mia storia con voi finisce, anche la mia storia. Poi mi dice, beh, insomma, tu, io te l'ho raccontata un po' della mia storia, chissà, sì, ti andrà a raccontarla magari a qualcuno in un libro. Sono Katie, ti ricordi di me? Io sì che mi sono ricordato immediatamente di questa nostra, di questa mia amica in modo particolare e fan molto 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 speciale, perché lei aveva scoperto la nostra musica che aveva a 16 anni, proprio con piccola Katie, e la nostra musica e la sua vita sono diventate un tutt'uno, in modo quasi simbiotico. E lei, vivendo in questo modo la nostra musica in particolare, la nostra musica l'ha salvata, l'ha salvata in parecchi momenti della sua vita, soprattutto in momenti molto 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 difficili. Infatti è stato molto importante per me aver capito che potevo scrivere la sua storia, una storia fantastica, perché lei è una donna che ha attraversato gli anni 70, in parte gli anni 80, gli anni delle grandi conquiste, non solo sociali, no, conquiste su tutti i fronti, perché in quegli anni soprattutto il mondo delle donne è cambiato in modo molto forte e sostanziale, no, i diritti in quegli anni che la donna ha in qualche modo guadagnato giustamente la sua indipendenza, maggiormente la sua indipendenza e tanti tanti diritti dall'aborto in poi. E la cosa bella è che mi ha permesso di raccontare la sua storia, ma soprattutto per quanto mi riguarda di raccontare realmente quanto può essere importante la musica nella nostra vita, perché questo è il mio obiettivo vero, che era un po' anche questo. È un libro che è per tutti, per tutte le persone che amano la musica, perché io credo che leggendo questo libro hanno realmente la possibilità di capire che cos'è la musica, la potenza, la grande potenza che ha la musica nei nostri confronti si viene non semplicemente sentita o ascoltata, vissuta, vissuta quasi a diventare un tutt'uno con noi. E allora, quando accade questo, la musica ci può regalare veramente tanto. Hai di fronte, hai dato emozioni, hai creato tante emozioni, sensazioni bellissime, hai fatto piangere, ridere, cantare tante persone, ma quando ti trovi davanti al palco e davanti c'hai tante generazioni che hai passato, e più vedere anche bambini, ragazzi, che ascoltano la tua musica, che sensazioni ti dà, che emozioni ti provi? Beh, la consapevolezza che quello che abbiamo fatto è arrivato nel modo più bello, perché attraverso la nostra musica il pensiero di regalare gioia, di regalare emozione, emozioni alla gente, al pubblico che, quando sei sul palco, li vedi, li guardi in faccia, gli occhi che brillano, che si commuovono, e certo, ecco, questa consapevolezza di aver raggiunto e di aver fatto qualcosa di importante attraverso la musica, di aver si orato e toccato i cuori di tante generazioni, in qualche modo la nostra musica è entrata nelle famiglie, nelle case di tutti, grazie magari al fratello, al papà, alla mamma, allo zio, e poi piano piano noi abbiamo delle famiglie intere che amano e continuano, hanno amato e continuano a amare la nostra musica. Beh, questo significa che abbiamo fatto qualcosa di bello, di importante e non possiamo che essere contenti, contenti di noi, di quello che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto forse l'obiettivo più alto, no? Che può dare, che può regalare la musica e un artista non può chiedere assolutamente di più. Adesso finalmente si può ripartire con il contatto diretto con il pubblico e a questo punto, Dando ti chiedo, a questo punto, quando partirà la tournée, che sensazioni ti darà di nuovo vedere finalmente il pubblico davanti e non una telecamera? Beh, quello è il desiderio che ha, credo, ogni artista, no? Di ricominciare, questo forte desiderio di ricominciare. Certo, dobbiamo ricominciare con tutte le, no? Con tutte le precauzioni del caso, insomma, le limitazioni, massimo, all'aperto, massimo 800.000 persone, distanziate, certo, però, noi, un segnale lo dobbiamo pur dare, ma intanto, certo, l'artista ama salire sul palco, ama esprimersi, ma noi abbiamo tutta una categoria, la nostra categoria, che sono circa 500.000 famiglie che lavorano, senza parlare degli indotti, per cui, dobbiamo veramente ricominciare, anche, anche per loro, soprattutto per, per loro. Adesso, certo, rispetto all'anno scorso, anche l'anno scorso, abbiamo cercato di, 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 di fare un tour, siamo riusciti a fare, un, un, una ventina di, di concerti, quest'anno, spero, auguriamoci, di farne ancora di più, anche perché quest'anno, eh, ci siamo vaccinati, parecchi, parecchi di noi si è vaccinato, per cui, diciamo che i rischi, sono, rispetto all'anno scorso, limitati, e, non vediamo l'ora, insomma, di, veramente, ripenerci in mano, ma non solo, il nostro settore, per carità, che è realmente in crisi, ma ci sono tanti, tanti settori in crisi, tante famiglie, che soffrono, veramente, la fame, hanno bisogno di, lavorare, hanno bisogno di, riprendere, in mano, la propria vita, e, che abbiamo, purtroppo, no, lasciato, troppo tempo fa, cioè, questo grande, grande desiderio, della normalità, ecco, che, questo io credo, che sia, l'obiettivo, di tutti. Dal primo lavoro, oltre che nelle foto, e vedi, ci sono, un po' momenti, un po' diversi, della tua vita, perché, da giovane, un pochettino ad oggi, però, artisticamente, come ti pensi, di essere cambiato, dal primo lavoro, ad oggi? Sì. Beh, insomma, sono cambiate molte cose, è cambiato il mondo, sono cambiato io, no, certo, le caratteristiche di base, sono rimaste, però, è subentrata l'esperienza, che prima non c'era, perché no, anche, una, una, un pizzico di, di saggezza, che, che gli anni, eh, ti sa regalare, e, anche questo è importante, l'approccio, nei confronti della vita, sicuramente più maturo, a guai, se non fosse così, ma anche nei confronti, della mia vita, professionalmente parlando, cioè, c'è sicuramente, una consapevolezza, eh, maggiore, su tutti, su tutti i fronti, poi, chiaramente, siamo umani, si sbaglia, con tutte le, le insicurezze, che, 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 che ho anch'io, come, credo, più o meno come tutti, eh, però servono, perché, eh, perché ti fanno capire, che, che comunque nulla, può essere, eh, scontato nella vita, eh, devi comunque, no, guadagnare, desiderare, eh, anche con fatica, perché, nulla è facile, è assolutamente facile. Poi, io sono, anche una persona, che chiedo, sempre chiesto, moltissimo a me stesso, e, e agli altri, perché amo la perfezione, la musica poi è una cosa seria, anzi, serissima, va presa, sul serio, eh, per cui, sicuramente, sicuramente, la consapevolezza, così, in generale, che oggi, non potevo averla, quando avevo, vent'anni, o trenta, e, sotto certi aspetti, ti fa vivere, anche, anche meglio, perché, eh, c'è anche, un altro aspetto, che è molto, molto importante, che è l'equilibrio. L'equilibrio è, alba, è alla base, della serenità, io credo. L'equilibrio significa, dare la giusta collocazione, alle cose che vivi, e, se tu riesci a dare, il giusto valore, e la collocazione, a, giusta, a ogni cosa che vivi, eh, sicuramente, si vive anche meglio, no? Senza, esagerazioni, cioè, senza esagerazioni, già, se è una cosa, importante, bisogna, viverla, nel modo importante, ma, se non lo è, perché dobbiamo, no? eh, impazzire, per una cosa, che non, che non, probabilmente, di da poco, eh, che è poco importante, era, ecco, il giusto valore alle cose, io credo che, anche questo aspetto, sia, sia, molto importante. La domanda più bislacca, che ti hanno fatto, che non aveva senso logico, e tu gli hai dato una risposta, che, in realtà, non ha avuto neanche più senso logico, della domanda. Guarda, sicuramente, è stata fatta, questa domanda, ma, credimi, in questo momento, non me la ricordo, perché, sono portato a, a ricordarmi le cose belle, no? Della vita, sono quelle che ti rimangono dentro, le cose negative, le cose brutte, anche le domande inutili, perdonami, ma, eh, no, sinceramente, non, non me le ricordo. Ci fu un'intervista, eh, stranissima, che, dovevo leggere una parola, eh, eh, da questa parola, eh, sviluppare una risposta, ma, credimi, era talmente articolata, questa, questa intervista, fu una delle interviste più, difficili, e, strane, no, eh, che mi hanno fatto, eh, però, sinceramente, se tu mi chiedi, qual era la parola, mh, mi ricordo che fu una delle interviste più strane, e, e comunque è chiaro che una, mi ricordo all'inizio, eh, io suonavo l'organo, eh, Emond, e, non so, forse anche il modo, adesso mi viene in mente, adesso sono delle tante domande strane, e, parliamo veramente dei primissimi anni, suonando l'organo, a Emond, ed ero seduto a suonare questo, Emond, una delle domande, che mi fecero, che fecero a Ipu, e disse, ma, chi è di voi il prete? Evidentemente, questo giornalista, aveva pensato, che chi suonava, a Emond, forse un prete, eh, o forse, eh, che ne so, mi aveva preso per, per un prete, forse perché mi vestivo, magari, boh, quando, quando, mi sono fatto, boh, mi ha visto, in una situazione vestito di, di, di nero, non lo so, comunque, fece a Ipu questa domanda, che, fu una delle domande più strane. Il momento più emozionante, che hai avuto, in tutti questi anni, che ti ha, ti ha dato quella sensazione, proprio di benessere, che, ogni cui, l'hai vissuto, sei stato così felice, che, effettivamente, non avevi altro, di dire, sto benissimo, sto bene con me. Certo, vabbè, sono tanti, fortunatamente, perché noi abbiamo avuto, una vita talmente bella, talmente straordinaria, io aggiungerei, una vita professionale unica, perché, credo che sia irripetibile, per chiunque, per carità, me lo auguro, una band, che nasce, rimane, e che ha la possibilità, la costanza, la fortuna, e, e, e non so, anche il talento, perché, attenzione, senza talento, non è che si può andare molto, molto lontano, di rimanere 50 anni insieme, io credo che, che non, non è sicuramente tanto, tanto facile. Uno dei momenti, perché, perché fu realmente così, quando i Poo, arrivarono, per la prima volta, ai pareti, con tanta voglia di lei, al primo posto, lì, ero a casa mia, proprio qui a Bergamo, con Riccardo Fogli, ma perché fu un momento, indimenticabile, e, di massima felicità, perché lì, lì abbiamo avuto, la consapevolezza, che i Poo, erano arrivati al successo, che erano arrivati, per la prima volta, dopo, cinque anni, di, di sogni, erano arrivati, per la prima volta, ai pareti, arrivando, al grande, grande, grande pubblico, vendendo, oltre un milione e mezzo, di 45 giri, e la prima volta, quando, Luttazzi, disse al primo posto, tanta voglia di lei, dei Poo, ecco, eh, fu una sensazione, una gioia, indescrivibile. Robi Facchinetti, in cinque parole. In cinque parole? Cinque parole. Robi Facchinetti, è nato il primo maggio, è un toro, è di Bergamo, che non gioca a suo favore, perché i bergamaschi, si sa che hanno, la testa dura, per cui, ha la testa dura, è, è, ambizioso, ama la musica, insomma, questo l'ho detto, e lo ripeto, anche adesso, eh, per me, la musica, è sempre stata, eh, la vera vita, anche perché, la musica, non mi ha mai, eh, tradito, e, la musica, è vita, è il titolo, del mio tour, perché lo penso, perché, realmente, la musica è vita, ma non solo per me, è per tutti, basta scoprirlo. Saluto, un abbraccio, a tutti gli amici, di Studio 7 TV, da Robi Facchinetti, vi aspetto sotto il palco, ok? Un abbraccio a tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta, l'intervista di Pietro. Senza un'ultima parola, senza neanche dirci addio, con quel tuo sorriso eterno, che non me l'ascorto mai. grazie, grazie, il primo, l'epico, ho regalato a mia moglie, De Poo, in vinile, è Alessandra, perché lei si chiama Alessandra. Ah, beh, salutamela allora. Gli hanno dato il nome Alessandra, grazie al nostro album. Alessandra, va bene, va bene, va bene, sì, comunque si chiama Alessandra, come il nostro album, oppure il nostro album, Alessandra, si chiama come tua moglie. Va bene. Io ti auguro, buona serata, e ringrazio la vostra responsabile, la vostra, detto Samba, che è molto gentilissima, molto, una grande professionista. Grazie di tutto. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie. Me la ringrazio, perché è molto bravissima. Grazie, buona serata. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta, l'intervista di Pietro. Senza un'ultima parola, senza neanche dirci addio, con quel tuo sorriso eterno, che non me l'ascosto mai.